Ok, yeah, grande Andrea, compareto, fantastico, sto facendo il video e si registreranno solo le nostre voci, fantastico, hai gettami, è infatti, è il flash, sta facendo un video, però più o meno si vediamo, si, ma non è che me lo sbatti in faccia, cazzo, ok, cioè non è che ci vedo poco, non ci vedo più nulla, faccio, aspetta, mi metto avanti e faccio mi stabile, tipo, adesso stiamo andando alla scoperta e all'avventura, vabbè, si sente, dai, prego, si cazzo, io devo illuminare, muoviti, poi hai rotto già il coglione, in mezzo secondo gli hai parlato, sì, beh, qualcuno mi ha chiamato cacalcazza, ci sarà una ragione, abbiamo le prove, infatti, si è registrato, ho messo il fottuto, forse non cacalcazza, ci sarà una fottuta ragione del cazzo, ok, basta, parolacci, ci sono bambini che guardano questo programma, siamo in streaming su YouTube, siamo in streaming su Art Attack, ecco qua le mie 186 buste di mondezza colorate, siamo Nelly, il grande artista, tutti insieme, tutti assieme, allora, aspetta, facciamo una cosa, avvicinatevi, facciamo un gruppo più o meno unito, più o meno, più o meno, ok, basta, siamo più o meno uniti, di vieto di bannazione, eh, beh, quello niente luce, attenti, io voglio luce, eh, mi sa che non li finisco, due giga di spazio, così, due giga liberi, perché ho la stick da quattro, due occupati, c'era scritto di vieto di bannazione, ma quindi se cadi e vai in acqua, ti fanno una multa, se sei vivo, sì, uh, lembre cinesi, sono un cane, bow, guarda, guarda, guarda come illumina il panorama questo affaro, cioè, arriva fino a qua, questi insetti, piante, merda, alluminare il percorso, invece, no, sarebbe un pochino più utile, invece sto cadendoci nella botta, c'è un percorso sbagliato, esattamente, ma io vi illuminerò la strada, magari, grazie, è perché siamo tutti divisi, ma l'Alfonso è diverso, è da solo, sto cercando di andare là, bravo, li falle andò da solo, power player, bravo, Fischer ha provato Monster Hunter 3, Sì, è super esaltato, direi che si vedono le scale, è bello, ma non mi piace il coso, lui è gasato dalla battaglia subacquea, dice che è un bestia, ma è fatta bene, pare che sia fatta bene, che cazzone, punta a sinistra, punta a sinistra, aspetta, aspetta, punta per terra, punta per terra, una pietra, non c'è una cazzo di pietra in una campagna, comunque aspetta, Cristi scendi, così, evitiamo di fare una pietra, aspetta, punta a guarda con le parti, wow, non c'è un cazzo adesso, magari, io voglio gli alieni anche, cosa magari cipaccabra, Cosa fareste, invaderebbe la terra, no, potrei fare quello che farebbe un aliena, così, mi dovete invadirle la terra, al fospe? Eh, ahi Jamie, vai qua, vai qua, voi come ci vedete, fighi, bellissimi, fa così, beccatevi questo si vede bene con doppia luce si no l'hai vista spero che non mi arrivi qua tagliano l'erba abbastanza in fretta alfa non vedi quanto la tagliano spesso fottiti devi rassicurarmi eh no vabbè in realtà qua già potano perché quelli non ha ancora senso a potarle perché pioverà a breve pioverà benzine io mi metto in mezzo così illumino un po' a tutti non è che mi piacciono gli hamburger nel senso io la butto nel culo a qualcuno e qualcuno la butta a me è tutto registrato stupida di alfonso parte primo che telefono utile cazzo l'hai pagato la bellezza di 70 euro che cazzo ahhh 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 di nuovo uiii no di nuovo no no dai una panchina che figata no raga merda hai scogata di no Vabbè vorrei essere te C'è un bel cambiatore